Dopo l'inaugurazione di Piazza Matteotti e Piazza Cavallotti, un altro taglio di nastro per le amministrazioni Ottombrini. Il 21 marzo 2016 alle 10.30 sono stati inaugurati la residenza per anziani Maria Maddalena Spada, soggetta ad adeguamento e ristrutturazione funzionale e impiantistica, il ciclo pittorico restaurato che adorna il chiostro dell'ex convento dei frati minori osservanti che ospita la struttura. Con la riapertura l'immobile ospiterà una casa di riposo per 10 anziani e una residenza sociosanitaria per massimo 30 ospiti. L'amministrazione Ottombrini è un altro taglio di nastro, deve essere orgogliosa? Siamo tutti orgogliosi, ma non noi. Io penso che deve essere orgogliosa tutta la cittadinanza per le tante opere che stiamo mettendo a disposizione della città, perché questo è qualcosa di importante. Concedere, dare, mettere a disposizione la casa di riposo recuperata, riqualificata, questo veramente ci dà tanta emozione e tanta gioia, perché finalmente abbiamo una struttura capace di poter andare incontro alle esigenze di tante famiglie, di tanti ruvesi che hanno bisogno di assistenza e di essere veramente seguiti attentamente nell'età avanzata. Quindi io penso che non siamo noi amministratori orgogliosi, noi lavoriamo per la città e questo è il senso più importante di tutto il lavoro che abbiamo svolto in questi cinque anni. Aspetterà la prossima amministrazione occuparsi della sorte dei lavoratori della Ruvo Servizie? Noi stiamo già dopo, nel mio intervento lo preciserò, già stiamo al lavoro per verificare quante persone sono già disponibili ad occupare questa struttura e in base a quello poi decideremo di conseguenza. Si sono conciliati il rispetto dei vincoli legislativi inerenti alle strutture sociosanitarie e la necessità di preservare la storicità del manufatto. Erano presenti il sindaco Vito Ottombrini, l'assessore ai lavori pubblici Caterina Montaruli, l'assessore alle politiche sociali Elisabetta Altamura, la dottoressa Daniela De Bellis della soprintendenza Bellearchi e Paisaggio, la restauratrice Federica Lombardo, l'architetto Mario Di Puppo, il direttore del Galmur Giappiù Luigi Boccaccio e l'ingegnere Salvatore Caputi Iambrenghi che ha diretto i lavori. L'intera opera è costata 1.400.000 euro, finanziati da Galmur Giappiù, Comune di Ruvo di Puglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri Regioni Puglia e Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. Il sindaco Vito Ottombrini, in sede di conferenza, ha annunciato che i lavoratori della Ruvo Servizi SRL torneranno presto a gestire la casa di riposo.